Buonasera, da TGTG estate, trema lo stromboli in Sicilia, in Trentino invece esonda un torrente, anche in questo caso purtroppo una vittima, un'estate di record per il caldo e noi cerchiamo di respirare in questo studio con alcuni buoni consigli che riguardano la salute e l'alimentazione, lo facciamo con un volto noto, più esperto che potremo avere con noi, professor Giorgio Calabrese, buonasera professore, presidente del Consiglio Superiore di Sicurezza Alimentare, docente di Alimentazione e Nutrizione Umana, parleremo anche d'Europa perché ha avuto il stesso ruolo molto importante in queste ore in cui si parla tanto dell'Italia in Europa, subito dopo i titoli principali dei TG della Sera, eccoli dopo la nostra sigla. David Sassoli, gruppo socialista e democratico, presidente dell'Europarlamento, il nazionalismo produce conflitti, cambiare l'accordo di Dublino. Stop dell'Europa alla procedura di infrazione all'Italia, Conte al TG1, grande risultato, dimostra la nostra credibilità avanti con fiducia. Non ci sarà procedura europea per debito eccessivo ai danni dell'Italia, la Commissione è rimasta soddisfatta dei nuovi numeri presentati dal Governo, è stata premiata la nostra serietà, detto il Premier Conte che si è impegnato a rispettare il patto di stabilità anche nel 2020, la sfida non è finita, avverte Tria, ora occorre restare virtuosi per crescere, lo spread scende sotto i 200 punti, non succedeva da due anni, intanto stasera il leghista Fontana potrebbe essere designato ministro degli affari europei. Professore, abbiamo sentito come l'elezione di David Sassoli, il nuovo presidente dell'Europarlamento, sia una notizia che ha avuto grande eco nei telegiornali anche di questa sera. È una bella cosa perché Davide è tutta una persona molto perbene, molto in gamba, ha fatto tre mandati europei, un grande giornalista, io ho lavorato con lui in Rai e devo dire che se lo merita, se lo merita anche l'Italia, al di là dell'appartenenza al partito in cui potrebbe essere, ma io sono sicuro che sarà un presidente utile a tutta l'Europa. Fra l'altro, in Europa c'è un peso specifico che riguarda anche il tema dell'alimentazione e il professor Calabrese, lei è stato padre fondatore di una realtà molto importante che è l'autorità per la sicurezza alimentare europea. Sì, siamo ormai dal 2003 a Parma, ma prima noi eravamo stati tre anni a Bruxelles ed ero l'unico dietologo dei 15 membri del board dell'EFSA, European Food Safety Authority, tradotta Autorità Europea della Sicurezza Alimentare. In pratica cosa si decide? A noi lì, ancora oggi, si decide quello che sia la sicurezza in tutti i 28 paesi e quando c'è un alert di qualcosa che capita in Bulgaria, piuttosto che in Romania, piuttosto che in Italia o in Grecia, parte immediatamente l'allarme, si va verso il commissario europeo a cui si dice com'è la situazione e poi ci sono tanti panel che studiano, come noi facciamo poi anche in Italia dove io sono presidente, e studiamo i vari argomenti che possono garantire la sicurezza alimentare che è la sicurezza della salute. E a proposito di salute, ci troviamo di fronte ogni estate, devo dire, alla percezione, quantomeno è poi confermata anche dei dati, di un'estate sempre più calda che mette alla dura prova grandi fasce della popolazione, non soltanto i più anziani. C'è un articolo che è uscito qualche giorno fa sul Corriere della Sera e vorrei farvi leggere come strade trambollenti, si racconta dei mercatini svuotati, addirittura di gomme a terra, delle biciclette che vengono noleggiate. C'è un eccesso di calore, effettivamente negli ultimi anni sta succedendo questa esplosione di AFA, di calura, di temperature che sono più del mondo filippino che non del nostro mondo. E in questo caso io penso ai bambini e agli anziani, ci disidratiamo, abbiamo tanta perdita di liquidi con tanti minerali, fra cui il sodio, il potassio, il magnesio, lo zinco, il selenio. Allora noi abbiamo bisogno da una parte di idratarci, bere, acqua, acqua. Bisogna bere quei due litri di acqua al giorno, che però si devono accompagnare ad alimenti ricchi di acqua. Frutta, verdura, cereali, legumi, ma anche le carni, il pesce, il latte, l'ottimo latte ha una positività nell'apportare i liquidi, il tè, il caffè. Noi dobbiamo saper gestire 6-7 piccoli pasti nella giornata e avere almeno 7-10 introduzioni tra liquidi e solidi che abbiano acqua per poter continuamente reidratare tutto ciò che perdiamo con la umidità che è oramai al top e nel contempo abbiamo i grandi problemi, poi arrivano i grandi temporali che ci abbassano la temperatura e c'è uno shock termico. Io lo dico anche da padre, mi accorgo che chi ha dei figli lo sa, come i bambini chiedono continuamente da bere. Certo. Perché più si va avanti con l'età, se è un'informazione corretta, e meno si ha la sensazione anche della sete? E' così perché i centri della sete hanno un problema di questo tipo. Nasciamo il bambino, suo figlio, i nostri figli sono nati con il 60-65%, a volte anche il 70% di acqua. Man mano che si va avanti, nella prima fase non hanno tanta sete, poi man mano che incominciano a crescere hanno, quando fa caldo, molta sete. Quando noi arriviamo verso la tarda età, oggi noi abbiamo tanti centenari in Italia, il centro della sete è un po' usurato, per cui bisogna ricordare agli anziani devi bere, nonna devi bere, hai bevuto, vuoi un po' di acqua, vuoi del tè, vuoi del caffè, vuoi qualcosa che ti idrati, perché non sentono il senso della sete. Però attenzione, quando non senti il senso della sete, il re ne protesta perché si concentra troppo, non si fa tanta pipì e allora potrebbe crearsi una nefropatia, una malattia del rene. E noi clinici, noi medici, abbiamo bisogno di prevenirlo prima di curarlo. Ma che cosa si fa per lottare in qualche modo contro questo caldo da record? Siamo andati ad ascoltare alcune voci e raccoglierle in una città come Napoli e chissà che non venga qualche consiglio. Sentite un po' con noi. Ora è più caldo e non devi uscire. E ovviamente è uscire la sera quando ormai è un po' calato il sole, è sempre più fresca. Per esempio, che ho due bambine piccole, cerco comunque sempre di evitare le ore calde, di fargli magari mangiare granite, anguria. Io penso che bisogna bere molta acqua, assolutamente, perché magari se non si mangia si può anche sopravvivere, ma se non si beve non si sopravvive. Mangiare un po' meno rispetto al periodo invernale, tanta acqua, tanta frutta, passeggiate. Porto una bottiglina fredda gelata, eccola qua. Vuoi vederla? Questa è la mia carica condizionata personalizzata. Quarta, gelata. Soffro il caldo, anzi mi piace, quindi hai chiesto alla persona sbagliata. C'è proprio chi non lo soffre il caldo e chi si organizza così, che ne pensa? No, ci sono i termocettori, così come c'è chi è più portato per la musica e l'altro per la pittura. Sono tutte caratteristiche particolari, però in effetti il 98-99% il caldo lo soffre, perché la grande calura ci disidrata. Devo dire che queste signore sono state equilibrate, perché hanno dato dei consigli giusti, ed è importante anche il fatto di non uscire nelle ore molto calde, e soprattutto quando si è in spiaggia, di non portare i bambini e gli anziani nel periodo della grande calura, perché si possono avere i colpi di sole, le insolazioni, e queste ancora di più concentrano il sangue e la parte liquida se ne va, la parte solida, globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, restano più evidenti e possono creare anche delle trombosi e comunque delle sincopi. A proposito di caldo, secondo i dati del Servizio per il Cambiamento Climatico del Programma Europeo di Osservazione Satellitare della Terra Copernicus, il giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato in Europa a partire dal 1850. A proposito di contatti che noi vi ricordiamo ogni sera, vi faccio leggere dal Corriere della Sera una delle prime notizie, la terza che viene messa in pagina, che riguarda proprio i contatti. Whatsapp, Instagram e Facebook, Down, problemi alle app in tutta Europa. Quindi oggi non ci sentiamo di consigliare di mandarci una Whatsapp audio, ma magari scriverci una mail ai nostri contatti per poter porre le vostre domande direttamente al professor Calabrese, così ci siamo aggiornati anche su questa cosa che accade. Ecco che vedete i nostri recapiti. Professore, torniamo con il nostro binocolo sui titoli dei Tg della Sera. Andiamoli a vedere insieme per commentarli in studio. Terrore a stromboli, violente esplosioni sul cratere del vulcano, pioggia di lapilli sull'isola, fiamme le sterpaglie e la zona dei canneti. Incendi hanno creato il panico tra i turisti che si sono gettati in mare. I testimoni, la gente varricata in casa, vigili del fuoco e canadera al lavoro. La guardia costiera pronta a evacuare le persone in pericolo. Gli italiani scendono a 55 milioni, mai così poche nascite dal 1861 ed emigrazione in aumento. È declino demografico. Il calo rallentato solo dalla presenza degli stranieri. Cresce l'emergenza degli anziani non autosufficienti. Sea-Watch, Carola, lascia grigento per motivi di sicurezza. La procura nega il nulla osta all'espulsione. Ancora polemiche. Il titolo di questa sera, professore, immagino, ho visto che si corrucciava un pochino sul futuro dell'Italia. Sì, io penso che bisognerà ritornare a fare dei figli. I nostri nonni, i nostri genitori avevano tutti cinque figli, sei figli. E c'era tanta povertà allora. Io sono del 51 e venivamo, dopo la guerra, nelle famiglie, almeno tre figli, almeno. Proprio quando non avevi figli, avevi tre figli, chi sei, chi sette. Poi c'è stato un momento di crisi anche economica, questo lo capisco. Consideriamo anche che oggi le nostre mamme, le nostre donne, sono veramente sacrificate perché sono sull'orlo del quarto lavoro, perché non si può stare con un solo stipendio. Allora anche la donna, oltre che fare la mamma, la moglie, deve fare anche la professionista e deve fare anche la donna di per sé. Quindi noi abbiamo delle difficoltà, però sono dell'idea che debba per forza esserci una, come dire, inversione di tendenza, perché il buon padre eterno ci ha dato la possibilità di fare i figli, perché sono il futuro del mondo, non solo dell'Italia. E sono tante le nazioni in Europa che stanno avendo questa depauperazione, come dire, di bambini. E bisogna ritornare a fare figli, avere fiducia e bisogna fare delle politiche, come dice il Santo Padre, delle politiche che aiutino coloro una donna che è incinta, quando torna dal lavoro, dalla gravidanza, deve ritrovare il suo posto di lavoro e non trovare neanche la scrivania o la sedia. E aiutare proprio le famiglie su questo. C'è la foto del giorno di oggi a che fare con l'alimentazione, ma anche con l'economia del nostro paese. Guardatela un po', si tratta di uno degli alimenti presenti nelle nostre tavole, soprattutto magari più a colazione in certi momenti, 40 anni di attività di mielizia e il clima che viene definito così come pazzo, mette in crisi la produzione italiana di miele. Leggo questo da avvenire di oggi. Perché il clima molto umido e molto caldo crea dei problemi alle nostre api operaie e quindi c'è necessità, tant'è che con le arni e tutti i produttori di miele, e il miele italiano è di eccellenza, stanno affrontando come si fa con i bambini l'aria condizionata, ci siamo arrivati al lusso di dover raffreddare anche le api perché altrimenti il miele, siccome ha molti zuccheri, rifermenta e quindi non è non solo non più buono, ma può anche creare dei problemi. Invece il miele è una cosa molto positiva, molto salutista. Professore, ma d'estate ci si ammala, come dire, non dico di più dell'inverno, ma sostanzialmente anche tanto per questi sbalzi? Ci si ammala in modo diverso, in inverno abbiamo tanti virus che sono specifici dell'influenza, i batteri che poi sono correlati a questo discorso, tant'è che noi come clinici spesso ci ritroviamo a dover affrontare febbroni, ma anche bronchiti e broncopolmoniti con grossi problemi. Nella fase estiva ci sono tanti virus che non sono cattivi come quelli dell'influenza, ma sono più fastidiosi, ci si hanno le diarree, le cistiti, in special modo nella donna, si ha una iperconcentrazione a livello vescicale e si hanno tante malattie, a volte delle febbre e delle tossi, sono più tracheiti, tracheobronchiti ma difficilmente polmoniti. Noi dobbiamo fare una cosa se vogliamo evitare d'estate di ammalarci, dobbiamo bere tanto e veramente introdurre 7-8 porzioni di frutta e verdura, perché gli antiossidanti con i colori dell'estate ci aiutano a difendere il microbiota, cioè tutti i nostri carabinieri e poliziotti che abbiamo nell'intestino e questi combattono, magari non riescono ad abbattere completamente questi batteri e questi virus, ma non li fanno arrivare ad avere una patogenicità tale da preoccuparci. Allora, una mele che è arrivata purtroppo non è firmata, ci chiede a proposito di frutta e centrifughe, se è vero che fanno bene e in quale parte della giornata è meglio consumarle. Fanno molto bene, ora abbiamo anche gli estratti, oltre alle centrifughe, sono molto positive, sono bevande, non li mettiamo pranzando, perché pranzando ci dissetiamo con l'acqua, ma alle 10 di mattina, a colazione, alle 5 di pomeriggio e volendo nella tarda serata, hai cenato alle 8 e però stai fino a mezzanotte fuori, invece di prendere delle cose un po' troppo grasse, prendi un estratto, un centrifugato di frutta e verdura ed è molto salutista. Appuntamenti allora di domani, guardiamoli insieme, accade domani, Vladimir Putin incontrerà per la terza volta Papa Francesco, sarà infatti a Roma, ricevuto anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Premier Giuseppe Conte, un appuntamento che ovviamente seguiremo anche noi, vi racconteremo. Vi lascio questa sera alla straordinaria Licia Colò e adesso invece al nostro Dulcis in fondo, perché non so se è giusto lasciare sempre un dolce la sera, noi facciamo così. Direi di sì, perché sai cos'è, dopo una giornata comunque molto pesante, per quanto possa anche essere andata bene, comunque c'è tanta tensione, quel senso di dolce che sia alimentare, sia di notizie, io penso che sarà sereni. Grazie al Professor Giorgio Calabrese per essere stato con noi, un vero piacere e a proposito del Dulcis in fundo, domani ricorrerà l'anniversario della morte di un straordinario santo dei nostri tempi, giovanissimo, a 24 anni, per Giorgio Frassati, beatificato da Giovanni Paolo II, un ragazzo che veramente diceva sempre che bisognava vivere e non vivacchiare, un esempio ieri come oggi per tutti noi. Grazie Professore. Grazie a voi. Ci vediamo domani, domani, qui a TGTG Estate, buona serata.